Walter, Topolino mio, come stai? No, non so, Topolino, adesso io passo. E la tua signora? Pronto, Gino, come va? Ti stai bene? La Tusa? Buola buola la Tusa. La principessa ha venduto pure, ha tenuto le pomizie. Il villore di mamma. Ma come si è permessa? Ambicilla, che combina? Giorgio, Giorgio. Sì, però mi sa che te sbagli, perché giudicata il panorama è da come siamo vestiti. Dovrebbe essere a Scozia. Allora è proprio vero. Non portano le mutande. E già, palle al vento. Dove si nasconde il vostro capo? Breivart. E su no, e su no, e su no. Io sono un pauscio di Milano, invece quello lì è un romano di Roma. Io sono Tom McGrath. Paul McDermott. Robert McGregor. Duncan McQueen. Tom McLaughlin. Cheeseburger McDonald. Computer McIntosh. Sì, sì, e poi tutta questa marcia è per fare cosa? Per andare a fare la guerra. Io neanche ho fatto il militare. Io sono figlio di madre vedova. Io invece sono figlio di una mignota. Mi ricordo che il bambino, il mio papà, nel 68 pagò 5 pipì e farmi riformare. Mi viene a ridere, guarda. Però che belle che sono le bariste. Ma che bariste, sono due mignote. Allora, tre svegliate. Adesso, cara, ti spiego. C'hai presente la nerchia? Ce l'hai davanti a te? Ok, ok, ce ne andiamo. Andiamo via, dai. No, non se ne andiamo a strunzo. Che cosa hai detto? Ho detto che non se ne andiamo a strunzi tutti e tre. Questo Elisir fa risuscitare i morti. Spicco che a noi ci devi fare risuscitare una cosa sola. Il manubrio. Te ne devi fregare perché tu da questo momento sei l'usceriffo di Tomstom e hai un appuntamento con la storia. No, io c'è un appuntamento con tu zottoli. Dopo. Si vergogna, lui si vergogna, si mette scurne. Dove la vuoi fare? D'Indoces. Senti, hai affari stasera, Walter? Questa sera? Eh, dunque, è un attimo perché ci devo pensare. Dunque, no, un cazzo, non faccio niente, sono libero. E chi te l'ha fatto avere tutto questo successone, eh, Nascanio? Chi me l'ha fatto avere questo successone? Ma tu sei veramente un principe? Eh, certo. Orsini Veraldo di Villahermosa. Arifamo, arifamo, dai, arifamo. No, non posso. Io non sono una principessa, sono una cameriera e devo andare a lavorare. Io invece mi addormo, così dopo hai ricastigo. E che c'hai fatto? Tutto, sei tutto, sopra, sotto dell'odio. Non mi ha sporpato vivo. La porca, porca stratosferica. Va a lavorare. Gina, lavorare, lei. Sì, mi chiamo Gina. Gina Pasqua di Pisceglie. Ma che la conosci? Ma la conosco sì. È mia moglie. Che grulli, ci avete sempre voglia di scherzare. Ma anche di trombare, cara. Lorenzo, che onore. Io sono il Magnifico. Vuoi diventare la Magnifica? Certo. Principe, che posso fare per voi? Una figiatina. Io ho ritrovato i mortali. Ne rimarrà soltanto uno. Ancora sto cazzo di immortale. Va cagà. Via, 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 via. Ehi, tuo pastro. Ma come cazzo parli? Dai, scappiamo. Ciao.